Ha percorso qualche decina di metri prima di accasciarsi al suolo all'angolo fra via Manzoni e via Gambini, ferito alla schiena da un'arma da taglio, il marocchino 25enne che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara. L'accoltellatore, anche egli di origine nordafricana secondo il poco che trapela, è stato arrestato in via Flavio Gioia dai carabinieri, postissi immediatamente sulle sue tracce. Il fatto di sangue che rischia di esasperare il clima piuttosto duro che da tempo si respira in quella zona è avvenuto poco dopo le 15.30. Abbiamo sentito dei rumori, siamo usciti e a quel punto abbiamo intervisto una rissa lì all'interno dell'androna dell'uscita di sicurezza della scuola e ci siamo preoccupati più che dei mezzi che erano qua vicini, non si sa mai quando c'è una rissa che non ti buttino già un motorino o cose del genere. A questo punto io sono rientrato qui per salutare il mio amico, siamo riusciti e c'è un ragazzo che usciva da lì e che camminava lungo il marciapiede con una bella macchia di sangue sulla schiena. Il fatto si sarebbe verificato fra il vano dell'uscita di sicurezza della succursale del Petrarca e il garage adesso a Tiguo. Di che nazionalità fossero non ho idea, so solo una cosa che questa persona che è uscita alla fine da lì, penso sia uscita perché magari ha combinato qualcosa e quindi scappava insomma e gli altri sono andati all'altra parte penso e questo è quello che insomma che abbiamo capito noi. Dopo la lite, le ragioni della quale sono al vaglio degli inquirenti, l'aggressore è fuggito mentre il ferito ha cercato di risalire lungo via Gambini ma dopo neppure un isolato non ce l'ha fatta proseguire. Immediato l'intervento del 118 è quello dei carabinieri allertati dai cittadini.